Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Kingdom Hearts 2 Final Mix Siamo esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta ovvero dopo aver concluso Atlantica E siamo qui pronti per tornare alla Fortezza Oscura Ok Ok E non c'è altro vero? Già Allora Dobbiamo tornare da Leon Qua c'è Claude che passeggio bello bello tranquillo Qua c'è il Moguri Tio Paperone a prendersi il suo solito gelato Oh oh Guai in arrivo Dovevo ma farle turbo però Vabbè Evidentemente Non mi ero accorto di avere poca barra Poca barra Yuffie Venite dentro Aspetta un attimo Che cosa è successo a questo posto? Quegli Heartless non assomigliavano a quelli del mondo di Tron Forza Entrate Ed entriamo sì Ehi Seed Sbrigati Seed Dammi un secondo Per la miseria muoviti Oh che ti Che sta succedendo? Quando si parla di tempismo perfetto L'MPC L'MCP Sta mettendo a suo quadro il computer Ancora? Questo è quello che dice Leon Oh si è aperto una porta Oh Uh oh. Vatti a fidare delle macchine Come sta Tron? Non riusciamo a contattarlo Pensiamo che sia stato portato di forza Alla griglia di gioco E non sembra che sia un gioco particolarmente divertente A dire la verità Andremo noi ad Atron Grazie ragazzo Stiamo preparando un programma Estirpa MCP E ho la sensazione che sia quasi finito Beh mi auguro che tu abbia ragione per una volta Ascoltate Avremo bisogno dell'aiuto di Tron Quando quel programma sarà completato Non preoccuparti Lo diremo noi a Tron Ricordate ragazzi Contiamo su di voi Ricevuto Bene però per prima cosa Io lascerei qui le pagine Ah no Le devo fare per forza Ah ok Pensavo Di poterle lasciare lì direttamente Vabbè Andiamo da Leon Siamo arrivati Siamo noi Oggi picchia Siamo noi Non potete parlare con Tron Se prendete Non potete parlare con Tron Se perdiamo il controllo di questa stanza Avete parlato con Seed Si E L'ertispa MCP E' quasi finita E' quasi finita Splendido Senti Leon Perché non vai a dare una mano a Seed Qui la situazione è sotto controllo Sei sicura? Tutta sola M Scusa Lascia tutto nelle tue mani Come sta Tron? Non riusciamo a contattarlo Forse dovrete provarci voi No Andremo a parlargli di persona Allora un favore da chiedervi Quando trovate Tron Potresti dirgli di andare alla torre di controllo? E' là che caricheremo le stirpa MCP La torre di controllo Ricevuto Grazie E' stato in guardia Oh leone dormiente Bilancia Bilanciata tra forza E magia Aumenta di uno Il numero di colpi Di una comba a terra I creativi Devono obbedire All'MCP Siamo là pronto Tron No Sì Non K ooo di cao gorge hope tron's okay me too let's head for the game grid great the terminal works let's go perfetto però prima andiamo hmm finished would be if it weren't for the old loon's magic old loon you say i'm trying to work here i'll show you who's old done there you go leon one homemade program a luny wizard special this had better work i'm off it'd be on your guard si però hai fatto incendiare il computer oh oh tron tron careful watch out hold on ci pensiamo noi vai vieni steek ah no genio vai vieni steek grazie ti 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 Questa rapida Voila Mi avete davvero salvato Non c'è problema Che sta succedendo qui? L'NCP è pronto per dichiarare guerra contro il mondo dei creativi Che sta succedendo all'esterno? Beh, c'è una macchina fabbrica Heartless Che è del tutto impazzita E anche il sistema di controllo della città ha dei problemi Ma Sid sta preparando un programma per cancellare l'NCP Dobbiamo andare alla torre di controllo per riceverlo Sid pensa che potremmo sistemare l'NCP una volta per tutte Proviamoci Plendido Chi è questo Sid? Un nostro amico Leon, Merlino, Aerith e Yuffie Sono tutti fuori che si preoccupano per Tetron Sembra che abbia molti amici creativi Il programma dovrebbe essere pronto ormai Che ne dite? Allora Alla torre Andiamo E dove è la torre però? Set up Riprogrammazione Allora Oho Autotrile Auto-trile Iade, barra fusione, ok Ok, ci sarà questa la torre? No, mi ha dato spazio Però vabbè, è sempre esperienza in più Oh, però flir Visto che non era di qua Sarà di qua Torre di controllo, sì Boom Uh oh Sconfiggi tutti gli Artleth, va bene Cua, lo battergo ski Back off This is it Back off It's over It's over Ah, yo Ah, io però Voila No, Leon will That's over No, no, c'è No, no, c'è No, c'è No, c'è No, c'è Buon appetito! Eccolo! All right! What's it like? This is very strange. That's morning's fire trick! Huh? There's a power booster for me. And flight routines for the solar sailor. And where are we? I don't know. There's a power booster for me. I've got a power booster. I'm tired of this. 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 Allora, vediamo Magari è di qua, eh Giustatante di sì Angar, esatto Stela è umida Oh Partenza Orca Cosa avevi appena finito di dire, Tron? Cosa avevi appena? Cosa avevi appena finito di dire, Tron? Cosa avevi appena finito di dire, Tron? Vai Aia Però Flair Olle Esplosione Arrivati Ok, ma prima Olle Ah, noi dobbiamo essere cancellati? Ma cancellate da solo, frate! Susione Triade! Usi la trattata! Usi la trattata! Usi la trattata! Usi la trattata! Tu sei molto persi, Tron! E' anche meglio di te! Chiamo... ... ci siamo un grande squadro! Ciao ciao! Boom! Pallonate in faccia! ... 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 Flora, Donald, Goofy, e tutti gli usatori qui ci sono. Grazie. Mi aiutai davvero aiutato. Mi aiutai molto più forte. Mi ha insegnato quello che la amici è davvero tutto. E non lo farò mai mai. Quando ci ho incontrato, mi sapevo che ci saremmo a perdere il MCP e liberare il sistema. Oh. Isn't this what users do when they're sorry to say goodbye? Uh, it's a first for me. Gorsetron, it's like a promise that we'll see each other again real soon. Okay, well then. Sono commoso ragazzi I promise Tron Tron Uh-oh Ci avete chiamato? How's the town? A-okay Not a single trace of the MCP either Everything's back to normal We made it Hey, why the long face? What happened? Tron just disappeared And he promised we'd see him again What's happening? Greetings friends, system is up and ready for user input Tron Tron Stay in touch Yeah A-boy-a-boy Hey, stop that, it tickles Tron is ticklish How about this Please stop that I think Tron's been hanging around those guys too much Wait, wait, just a moment I want to show you something I dug up from the system archives You can see the town back when it was first built That's right, I remember now Just like the old days I'd be fascinated to ascertain as to when the town got such a dreadful name as Hollow Bastion You know, this town had another name once Hello Bastion Cambia in Radiant Garden Quella Radiant Garden Scintilla elettrica Perfetto ragazzi Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto Abbiamo concluso anche il secondo evento qui A Radiant Garden A Radiant Garden Come potete vedere ha cambiato anche nome Io direi che per oggi possa essere tutto La prossima volta ripartiremo da qui Io come sempre vi invito a lasciare un bel like A commentare, condividere, iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E alla prossima Ciao belli